signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria allora 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 torniamo a parlare di armi tedesche torniamo a parlare di cose grosse di cose pesanti di cose massicce incazzate made in acciaio teutonico perché cari signori quest'oggi parliamo sempre usufruendo di una scheda dal secondo volume della seconda guerra mondiale di arrigo petanco ok quest'oggi parliamo di questo simpatico giocattolone qua il mortaio da 60 centimetri tor guardate che roba tonnellate tonnellate di ignoranza teutonica guardate che roba il tor il mortaio da assedio da 60 centimetri chiamato tor allora è un progetto che risale al 1935 allora in piena fase di riarmo la wehrmacht aveva iniziato a chiedere all'industria all'industria pesante tedesca delle armi dalle caratteristiche poco comune un esempio famosissimo e il super cannone ferroviario dora ve lo ricordate ne parlerò anche parlerò anche del dora uno dei più clamorosi sprechi di materie prime e di denaro mai visti allora dicevo e allora il il super cannone dora non poteva essere certo considerato alla stregua del normale materiale bellico di utilizzo comune nel caso specifico del dora si trattava di un'arma studiata per colpire la linea magino un'arma su misura insomma che venne usata praticamente poi solo a sebastopoli e nello stesso anno nel 1935 venne ordinato anche un gigantesco pezzo di artiglieria da assedio un mortaio semovente del calibro di 600 millimetri 60 centimetri di diametro signori non so se rendo l'idea è in grado di avvicinarsi con i propri mezzi e di prendere posizione contro quegli obiettivi che a causa dalla loro distanza dalle strade ferrate non potevano essere posti sotto il tiro dei cannoni ferroviari ora se si considera la simpatia che i tedeschi hanno sempre avuto per questo tipo di artiglierie e se si pensa che nel 1935 le artiglierie semoventi nel vero senso della parola dovevano ancora nascere questo improvviso bisogno della wehrmacht per una tale arma suonava quanto meno strano ma se guardiamo una mappa ferroviaria dell'europa di quegli anni vediamo che i confini delle nazioni occidentali e la stessa costa francese della manica il grande confine naturale dell'inghilterra sono percorsi in lungo in largo da binari verso invece verso est invece la faccenda cambiava completamente perché le ferrovie russe ad esempio sono poche mal servite e quasi tutte con uno scartamento diverso da quello europeo inutilizzabili quindi per un eventuale uso militare la russia possedeva anche una buona linea fortificata e molte piazze forti che sono al sicuro per la maggior parte dall'azione delle artiglierie ferroviarie potendo allora disporre di grossi calibri in grado di agire senza dipendere totalmente da questa via di comunicazione il problema poteva essere parzialmente risolto ma di questo sintomatico campanello d'allarme non fu insomma questo sintomatico campanello d'allarme non fu avvertito da nessuno o nessuno lo volle sentire sta di fatto che all'inizio del 39 la rain metal bersig era in grado di presentare il prototipo di un mastodonte d'acciaio dal peso di 123 tonnellate denominato carl sul quale iniziarono subito i collaudi e le prove balistiche nel 1941 erano pronte le prime due armi di serie battezzate thor ed eva eccole qua il thor questo bestione enorme c'è solo l'idea dall'idea c'è solo l'immagine dall'idea di una certa ignoranza di fondo del progetto di una certa cattiveria del progetto diciamoci la verità e allora erano giganteschi mortai in grado di lanciare proiettili ad alto esplosivo o perforanti dall'impatto devastante sia per il loro stesso peso che per la forte angolazione con la quale ricadevano una caratteristica del tiro dei mortai la gittata però non venne giudicata soddisfacente e si pensò allora di studiare delle nuove canne di calibro minore ovvero sia da 540 mm ma dalle dimensioni di ingombro uguali a quelle da 600 mm in modo che potessero essere montate al loro posto a seconda delle esigenze il calibro minore a parità di lunghezza della canna avrebbe consentito di migliorare notevolmente la gittata allora assieme ad un certo numero di queste canne vennero costruiti altri quattro scafi il motore era un mercedes benz che poteva essere montato sia nel tipo diesel che a benzina ma in genere ovviamente si preferì il primo tipo prima di far fuoco un ingegnoso sistema di ingranaggi permetteva di bloccare le sospensioni e far scendere lo scafo dal treno di rotolamento appoggiandolo direttamente sul terreno si veniva così ad evitare agli organi di movimento il tormento meccanico dovuto dal rinculo insomma 600 mm di proiettile insomma vorrei anche vedere che rincula ma vabbè 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 per i piccoli spostamenti il tor si serviva del proprio motore mentre per viaggi di una certa entità veniva caricato lo scafo su un carrello e il mortaio con i recuperatori su un altro ed entrambi venivano poi trainati da trattore per artiglieria invece per trasferimenti più lunghi si usava il trasporto ferroviario il tor si poteva caricare tramite un'imbracatura su due speciali vagoni a pianale e c'erano due calibri il 450 mm e il 600 mm il peso per il 450 era di 115 tonnellate e di 123 per il 600 era lungo un mezzo lungo 11 metri e 10 largo 3 metri e 16 alto 4 metri e 80 con una protezione limitata a 12 mm di corazzatura il motore era un 12 cilindri da diesel da 580 cavalli la velocità massima era di 10 chilometri orari il peso della carica di lancio era di 180 chili per il 450 mm e di 240 chili per il 600 mm la gittata del 450 era di 10 chilometri quella del 600 da 4 chilometri e mezzo insomma un bestione enorme insomma si trattava di un mezzo iper specializzato creato per uno scopo specifico ovvero sia l'assedio alle fortezze l'assedio a caposaldi fortificati rimasti isolati e circondati ripeto ripeto mentre mentre in occidente per sfondare la linea magino era previsto l'impiego dei cannoni ferroviari il tor sarebbe dovuto servire sul fronte orientale ripeto l'idea poteva non essere cattiva però il problema era sempre quello un mezzo iper specializzato un mezzo iper pesante complicatissimo che al di fuori come dire del del ruolo per cui era stato concepito era praticamente inutile fu utilizzato durante alcune durante alcuni assedi l'esempio più famoso in cui fu utilizzato il tor è l'assedio di sebastopoli e poco altro perché perché era un mezzo con una concezione risalente alla prima guerra mondiale un mezzo che per esempio ai russi non serviva perché loro avevano l'aviazione né più né meno come gli americani e gli inglesi a loro mezzi così pesanti così grossi così specializzati non servivano perché si rivolgevano all'aviazione e quando usavano mezzi da assedio o mezzi da assalto per il combattimento urbano avevano quelle simpatiche cose i funnies per esempio il petard il church con il con il mortaio petard decisamente più semplice decisamente più affidabile meno complicato meno costoso e altrettanto efficace ma questo è un altro discorso che ci porterebbe molto più lontano insomma il mortaio da 60 centimetri tor il uno dei più grossi pezzi d'artiglieria di tutti i tempi ma era se vogliamo un mezzo quasi inutile perché soffriva diciamo ripeto era un mezzo che poteva andare bene per la prima guerra mondiale ma che nella seconda fece ebbe un ruolo decisamente ridotto perché perché insomma siamo sinceri oltre 100 tonnellate di peso sono un pochino difficili da spostare va bene assediare sebastopoli va bene assediare leningrado va bene assediare la roccaforte di brest litovsk ma a parte questo insomma i limiti della concezione di questo mezzo appaiono decisamente chiari ripeto spettacolare potentissimo che sparava proiettili da 180 o 240 kg di peso ma ripeto un mezzo che si rivelò quasi inutile e ripeto sottolineo quasi quindi cari signori se avete come dire qualche cosa da aggiungere a proposito del mortaio da 60 cm tor non dovete far altro che scrivere nei commenti non dovete far altro che farmelo sapere e come sempre ripeto aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video come sempre ciao